Ciao a tutti cari amici del segno del Capricorno ben trovati qui sul mio canale vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale attivare le notifiche attraverso la campanella in alto a destra ho già selezionato 5 mazzi, 5 carte, sono i miei mazzi oracolari, tarocchi e sibille e se volete acquistare uno di questi mazzi potete trovarli sul mio shop online vi lascio qui sotto tutto nel box informazioni vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale attivate le notifiche attraverso la campanella in alto a destra condividete appunto questi video e vi aspetto anche sui miei profili social, instagram e facebook il tarotman benissimo, bando le cianci, incominciamo con l'orosco per voi del segno del Capricorno per gennaio 2022 andiamo ad analizzare carta per carta abbiamo la carta della realizzazione poi la carta del re di bastoni la carta del bouquet si usano le parole come lame taglienti e poi devi affrontare uno sforzo intenso per raggiungere i tuoi obiettivi e realizzare i tuoi sogni sicuramente cari amici del Capricorno c'è tempo di realizzazione tempo di concretizzare un qualcosa di veramente bello e di veramente forte a cui voi tenete particolarmente che può riguardare le varie sfere della vostra vita quindi un amore, un'amicizia, una conoscenza, tematiche relative all'ambito lavorativo all'ambito commerciale sicuramente se siete voi questo re di bastoni c'è tanta comunque energia siete sicuramente concentrati sui vostri obiettivi non avrete sicuramente paura di rischiare e se vi siete comunque messi in testa qualcosa anche da un po' di tempo a questa parte pian piano riuscirete a raggiungere quell'obiettivo e quel traguardo qui potrebbe esserci anche il fatto di avere a che fare con un uomo o una donna dei segni di fuoco quindi ariete leone o sagittario o portatore o portatrice dell'ascendente in uno di questi segni qui potrebbero esserci comunque delle buone notizie anche da parte di questa persona potrebbe esserci comunque un dono una proposta un regalo un'offerta lavorativa commerciale o economica però attenzione l'ultima carta vi dice che sì, riuscirete molti di voi riusciranno a raggiungere e realizzare quello che tanto sperate però per poter raggiungere i vostri sogni, i vostri ideali dovete comunque affrontare uno sforzo intenso quindi non sarà così tutto in piano dovete affrontare delle anche piccole sfide ma siete comunque persone forti che riusciranno a raggiungere in un modo o nell'altro appunto quello che desiderate è importante però utilizzare le parole e comunicare con gli altri attraverso un linguaggio consono perché durante questo mese di gennaio molti di voi potranno utilizzare le parole quindi anche espressioni verbali come lame taglienti e il fatto di comportarsi così e quindi essere anche abbastanza impulsivi e utilizzare queste parole come lame taglienti anche attraverso parolacce quindi qualcosa comunque di forte attenzione perché potrebbe passatemi il termine potrebbe in qualche modo arrecare danno a uno o più rapporti che avete in ballo con le altre persone quindi mi raccomando se dovrete affrontare delle piccole sfide non dite oddio come faccio ecco siamo ancora qui siamo sempre in questo punto non riesco a muovere no pian piano riuscirete e vi ricordo che avrete comunque delle realizzazioni qualcosa di concreto quindi farete canestro farete goal proprio durante questo mese di gennaio 2022 anche perché la prima carta è quella quindi la carta della realizzazione ok poi potreste avere a che fare ripeto con un uomo o con una donna dei segni di fuoco e questa donna o questo uomo potrebbe comunque palesarsi a voi attraverso un approccio proprio di di conoscenza di amicizia oppure anche qualcosa che appunto questa persona vuole offrirvi o vuole comunque regalarvi ok quindi sicuramente è un un ottimo mese per voi cari amici del seno del capricorno però mi raccomando utilizzate comunque le parole in maniera comunque corretta nei confronti sia di voi stessi ma soprattutto delle persone che vi circondano ok cari amici del seno del capricorno questo era il vostro osco e vi aspetto sempre qui su il Tarot Man ciao a tutti alla prossima